Corsi e ricorsi storici in Argentina, a mari per un paese piegato dal default del 2001 e ora di nuovo sul baratro della ricaduta. La minaccia del 2014 si chiama stagflazione, ovvero la confluenza tra economia stagnante, pilfermo e costo del denaro galoppante. La risposta del governo è invece la battaglia del peso e l'imperativo è quello di sostenere la moneta nazionale contenendo l'emorragia del suo valore. Per farlo, le autorità hanno immesso nel mercato grosse quantità di denaro, 200 milioni di pesos al giorno, per un totale di 4 miliardi tra dicembre e gennaio. E' questa, assieme all'accordo blocca prezzi e alle tasse imposte sui prodotti dell'agroalimentare destinati all'export, la ricetta anticrisi dell'esecutivo. Una politica monetaria fragile, avvertono però gli esperti. Ad un ritmo così elevato di immissione di credito, nel giro di 2-3 mesi le casse statali saranno vuote, le tasche dei cittadini piene di carta senza alcun valore e il paese di nuovo prossimo al crack. Il denaro abbondante scotta nei portafogli degli argentini, che non sanno come liberarsi di una moneta circolante che perde continuamente valore e credibilità. Non in buoni del tesoro, oramai inaffidabili, non nel mattone, perché non vende più nessuno, e fino a ieri neanche nello scambio in banca con la valuta USA, perché è proibito dalla Presidenta appena eletta tre anni fa. Tutto, insomma, rimane nelle loro mani, in un paese quasi in ginocchio, nel tango imbilico tra declino e sopravvivenza.